ok, visto che ho sbloccato il Giappone, quasi quasi, lo testiamo, subito allora, rallycross o domination? rallycross insomma, ho difficoltà così, perché mi trovo bene per il momento subaru e scelgo bergara uno su ecco ti qui, disfai le valigie e preparati per le gare uno dei piloti più tecnici in circolazione, Tanner Faust Tanner Faust questo tracciato è uno dei miei preferiti, ci sarà da divertirsi spassiamo non parlate tutti insieme, dai! dai, dai! in cam di strada passo via adesso non davvero lontano eh, sta sbagliando ahah! e' giocato mi è ancora un'entrependa questa volta non ce la farai, Tanner non ho ancora iniziato a fare sul serio, Ken Sto facendo una bigoraccia! Sto facendo una bigoraccia! Cosa? Ken! Tieni di pronto perché ora ce la metto tutta! Sei divertente, Tanner! E qui c'è un forzo testo, macchina distrutta. Mi scavola essere arrivato il testo. E qui c'è un forzo testo, macchina distrutta. E qui c'è un forzo testo, macchina distrutta. E qui c'è un forzo testo. E qui c'è un forzo testo. E qui c'è un forzo testo. ehi Dante il podio è un buon risultato potrei anche rincominciare allora stoppo un attimo